Tra poco su Amazing Facts, se sbagliate nelle relazioni con i vostri amici, con la vostra famiglia o con i colleghi di lavoro, se sbagliando usate troppa giustizia o troppa misericordia, da quale parte pensate che Dio preferisca che voi esageriate? Per oltre 40 anni, Amazing Facts si è dedicato alla condivisione della parola di Dio attraverso i media. Questo programma mette in evidenza alcune delle migliori trasmissioni televisive. Vi invitiamo quindi a sedervi e godervi questa edizione di Amazing Facts Presents. Il programma di oggi è tratto dalla serie Il Vangelo Eterno. Agire giustamente. Sapete, quando si educano i bambini, bisogna farlo con semplicità. I bambini hanno bisogno di regole elementari. Spesso i genitori non lo fanno, io e Karen abbiamo fatto così. Quando il bambino fa qualcosa di sbagliato, cominciamo ad elencare tutte le ragioni per cui non avrebbe dovuto farlo, ma in questo modo smettono di ascoltare molto presto, i loro occhi si riempiono di lacrime e tutto quello su cui si concentrano è solo il fatto di vedere mamma e papà che continuano. Ma ormai non ascoltano più. Non è così? State ridendo per due motivi, una che ricordate quando lo facevano i vostri genitori. Ascoltavate le prime parole e poi basta. Inoltre ridete perché lo avete fatto anche voi. Date subito delle regole, sin da quando sono piccoli. Conosco alcuni genitori che hanno delle regole molto semplici per i loro figli. Potreste provarle. Non fare niente che possa ferire qualcuno. Regola numero uno. Non fate nulla che possa far del male a qualcuno. Vedo che qualcuno di voi sta scrivendo. La dovreste mettere sul vostro specchio, vero? Buon per voi. Ora, dato che anche voi siete qualcuno, ciò significa non fare del male neanche a voi stessi. E questa è la regola numero uno. Categoria A. Non fate niente che possa ferire qualcuno, inclusi voi stessi. Quindi potete sempre chiedervi, questa cosa ferisce qualcuno? Regola numero due. Non fate nulla che possa ferire qualche cosa. Se danneggiate qualche cosa o rompete qualche cosa, state ferendo qualcosa. Non fatelo. Ad esempio, potreste pensare che colorare i muri sia un miglioramento. Ma i vostri genitori pensano che state effettivamente facendo male al muro. Numero tre. Non fate niente che possa ferire Gesù. Scommetto che non riuscireste a delencare delle violazioni che non rientrino in una di queste tre categorie. Regole molto semplici. Fate ciò che è giusto, in altre parole. Non fate niente che possa ferire qualcuno, non fate nulla che possa ferire qualche cosa e non fate nulla che possa ferire Dio. Regole semplici. Bene, adesso andiamo al punto due. Ricordate che Lui vi sta mostrando ciò che è buono. Cosa vuole il Signore da voi? Ci sono tre cose per il momento che richiede. Qual è la numero uno? Agire giustamente, fare ciò che è giusto. Sapete cosa significa? Il vostro spirito vi dirà quando state smettendo di fare ciò che è giusto. Oppure se vi trovate in una zona d'ombra. È come quello scozzese che si stava preparando per vestirsi una mattina e presa la camicia del giorno prima appesa alla finestra, la odorò e sua moglie, arrivando dietro di lui, gli disse, se hai dei dubbi è sporca. Nel dubbio è sporca. Quindi quando qualcosa adesta dei dubbi probabilmente è sporca. Quando siete nel dubbio mettetela in lavatrice. Oh, scusate un secondo, devo fare una piccola correzione per i bambini. Molti bambini mettono i vestiti puliti in lavatrice perché non hanno voglia di metterli a posto. Non è vero? Beh, quella non è una buona scusa. Quindi, punto numero due, stavamo parlando di agire giustamente. Amare la misericordia. Potremmo separare le parole e dire solo amare. Potremmo passare molto tempo a parlare solo dell'amore. In questi bellissimi versi si parla d'amore. Ma notate che sta dicendo amare la misericordia. Agire giustamente. Notate quanto è meraviglioso questo versetto. Agire giustamente è ciò che faccio agli altri. Mostrare misericordia. No, scusate ho detto il contrario. Agire giustamente è ciò che faccio a me stesso. Agire giustamente è una mia scelta di conduzione della mia vita. Amare la misericordia. Io di certo non sono misericordioso con me stesso. Oggi ho deciso di essere misericordioso con me stesso. Non è così che si dimostra misericordia. Beh, non sembri molto misericordioso. La misericordia a chi viene fatta? A chi ci sta di fronte? Si fa agli altri quando amate la misericordia. Cosa dovete fare quando amate la misericordia? Dovete amare gli altri. Ha senso questo? Mi seguite? Quindi la prima parte per agire giustamente è come mi comporto. Come conduco la mia vita. Amare la misericordia è come tratto gli altri. E va oltre il trattarli con giustizia. Perché quando date misericordia a qualcuno è diverso dal dare giustizia. Date loro qualcosa che richiede di andare oltre la richiesta stessa, porsi con gentilezza. Questa è una linea guida del credo cristiano. Non fate solo quello che siete obbligati a fare. Andate oltre l'obbligo e fate ciò che è buono. Fate ciò che è misericordioso. Una madre andò da Napoleone una volta chiedendo pietà per suo figlio. Che si era dimostrato un codardo per ben due volte sul campo di battaglia. La pena per questo era la morte. E disse Vostra maestà vi prego siate misericordioso con mio figlio. Lui disse non posso. Perché la giustizia impone che lui muoia per questo tradimento. Lei disse non sto chiedendo giustizia, sto chiedendo misericordia. Lui disse ma lui non merita misericordia. Lei disse se la meritassi non sarebbe misericordia. La misericordia è qualcosa che si dà a qualcuno che non se la merita. Le madri diventano molto eloquenti quando chiedono pietà per i propri figli. Lui disse ok. Hai vinto. Sarò misericordioso e lo lascerò vivere. Se fosse la giustizia, quello che vogliamo, se la meritassimo non sarebbe misericordia, giusto? Cosa vogliamo noi dal Signore? Volete giustizia dal Signore? Oh no. Le persone mi chiedono ogni tanto, pastore Doug, come la sta trattando la vita? Io dico molto meglio di quanto meriti. Io non voglio ciò che merito. E nel caso in cui non lo sapeste, voi non volete ciò che io merito. Non volete nemmeno ciò che voi meritate. Anche se pensate che ciò che meritate sia meglio di ciò che io merito. Voi non volete ciò che meritate. Ciò che vogliamo è misericordia. Ora, se noi vogliamo misericordia, cosa dovremmo essere disposti a dare? Come quell'uomo impietoso debitore che stava chiedendo al re di condonargli i 10.000 talenti che gli doveva. Il re fu misericordioso con lui. Lo perdonò. Lui andò fuori e incontrò un servitore che gli doveva 100 denari. Che è come la differenza tra 52 milioni di dollari e 42 dollari. Ha accettato la misericordia per i 52 milioni di dollari, ma non mostrò misericordia per i 42 dollari. Parte del nostro credo cristiano sta proprio nel mostrare misericordia agli altri. Dovevo inserire delle mie foto sul periodico di Amazing Facts, scegliendo fra quelle che avevo. Erano foto così vecchie che avevo ancora i capelli. E le persone mi dicevano non usare quelle, devi farti nuove foto. Quindi sono andato a farmi le foto e ricordo di averle guardate e aver detto non so se queste foto mi rendono giustizia. e il mio amico disse Doug tu non vuoi giustizia, tu vuoi misericordia. In realtà credo l'abbia detto con una faccia come la vostra non vuoi giustizia, vuoi misericordia. È un amico. Ed è stato onesto. Beati i misericordiosi perché essi otterranno misericordia. Matteo 5,7 Matteo 9,13 Gesù disse Ora andate, imparate che cosa significa. Io voglio misericordia e non sacrificio perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti ma i peccatori. Cosa vuole Dio da noi? Misericordia. Un fatto importante se sbagliate nelle relazioni con i vostri amici con la vostra famiglia o con i colleghi di lavoro se sbagliando usate troppa giustizia o troppa misericordia da quale parte pensate che Dio preferisca che voi esageriate? Penso che preferirebbe che esageraste nella misericordia. Sapete uno dei motivi per cui credo in questo? Quanti di voi conoscono la storia di Re Davide? L'uomo più vicino al cuore di Dio. Dio gli disse Davide tu sarai re e fu incoronato re. Non fece niente di male a Saul ma Saul era semplicemente posseduto da un demon era fuori di testa e stava dando la caccia a Davide per ucciderlo. Providenzialmente Dio mette Saul tra le mani di Davide almeno due volte. Davide avrebbe potuto ucciderlo e tutti i soldati intorno gli dissero questo è chiaramente un piano di Dio adesso puoi farti giustizia per ciò che ti è stato fatto perché sei stato cacciato dalla tua terra. E sapete cosa disse Davide? No lui è il re Dio lo ha scelto come re e sarà lui ad eliminarlo io non assumerò il ruolo del vendicatore la vendetta appartiene al Signore diventerà vecchio e morirà cadrà in battaglia o si ammalerà ma io non andrò contro di lui con le mie mani io sarò misericordioso chiaramente sto parafrasando e sapete a Dio è piaciuto ciò che ha fatto Davide perché Dio poteva prendere Saul quando voleva Davide disse ok io proverò a vincere Saul con la misericordia dopo che Davide ebbe l'opportunità di uccidere Saul due volte non lo uccise ma sui monti gridò re Saul il re è scelto dal mio Signore si umiliò davanti al re e disse ho qui un pezzo della tua veste una spada che era al tuo fianco ho avuto l'opportunità di ucciderti voglio che tu sappia che avrei potuto ucciderti ma ti ho mostrato misericordia spero che tu abbia misericordia verso di me smetterai di perseguitarmi e Dio ha amato Davide per questo gesto io penso che Dio avrebbe capito se Davide avesse ucciso Saul per legittima difesa stava cercando di ucciderlo ma non usò quel metodo esagerò dalla parte della misericordia Davide alla fine salì al trono Davide non dovette uccidere Saul si uccise da solo Saul si uccise da solo quindi se fate un errore a volte magari pensate di aver fatto troppo nell'aiutare una persona sono andato troppo oltre non andrò più oltre beh sapete Dio non sarà mai arrabbiato con voi se andate un po' oltre giusto? se agite dalla parte della misericordia se perdonate un po' di più siete un po' più pazienti quante volte Gesù disse a Pietro di dover perdonare? 70 volte 7 che è una sorta di equivalente ebraico 7 era la ruota del tempo e con 70 volte 7 sta dicendo che la misericordia di Dio dura per sempre e quindi andate più in là che potete amate la misericordia non solo tollerandola ma vivendola 2 Samuel 22 tutti i mostri pietoso verso l'uomo pio e retto verso l'uomo retto se mai voleste apprezzare la misericordia di Dio lasciate che lui la passi a voi tramite un altro siate misericordiosi con gli altri e non potrete capire meglio di così la misericordia di Dio verso di voi ai misericordiosi egli si mostra misericordioso beati misericordiosi perché essi otterranno misericordia Matteo 23 23 penso che questo sia un riferimento che Gesù sta facendo a Michea questo è uno degli esempi in cui penso che Gesù stia facendo riferimento a questo passaggio del Vecchio Testamento Guai a voi scribi e ferisei ipocriti perché calcolate la decima della mente dell'alento e del comino e trascurate le cose più importanti della legge posso tradurre le cose più importanti della legge che la cosa più importante resti la cosa più importante è giusto che paghiate la decima ed è bellissimo che lo facciate con le vostre erbe questo è magnifico penso che probabilmente potreste mettere una zucca sul piatto che passa con la speranza che copra tutte le piante senza contare il prezzemolo rosmarino prezzemolo e timo sto citando Simone Garfunkel è un po' estremo ma non li sta condannando per essere estremamente precisi nella decima ma ciò che sta dicendo è avete dimenticato la cosa più importante e sentite cosa dice Gesù giustizia misericordia e fede le prime due sono le stesse che si trovano in Michea agisci giustamente ama la misericordia e la fede significa fede in Dio che corrisponde all'ultima cosa quindi penso che Cristo stia citando quel verso in quel contesto adesso andiamo al punto 3 il primo è pratica la giustizia ama e ama la misericordia ama il tuo vicino e infine cammina cammina umilmente con il tuo Dio cammina con Dio ora qui divagherò un po' perché c'è tanto da dire cammina con Dio non dice di camminare umilmente dice cammina con Dio il vostro cammino rappresenta la direzione della vostra vita rappresenta l'uso che fate del vostro tempo di giorno in giorno questo è il vostro cammino se state sdraiati a letto tutto il giorno quello è il vostro cammino non dovete camminare per avere un cammino tutti hanno un cammino il vostro cammino è come vivete la vostra vita è un'allegoria o meglio una metafora voglio camminare come camminava Enoch come camminava Enoch lo dice in Genesi capitolo 5 24 ora Enoch camminò con Dio poi non fu più trovato perché Dio lo prese è come se ci stesse dicendo che i 144.000 seguivano l'agnello dovunque andasse costoro sono nel regno sì abbiamo parlato dell'Apocalisse dove si parla di loro quindi saranno salvi e i 12 apostoli camminavano con Gesù ed anche loro saranno tra i redenti fondamentalmente i loro nomi saranno nella fondazione della nuova Gerusalemme quindi camminarono con lui la Bibbia dice Noè camminava con Dio era un uomo giusto Genesi 6 verso 9 Noè fu un uomo giusto e irreprensibile tra i suoi contemporanei Noè camminava con Dio Salmo 1 1 Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi cosa significa camminare con Dio beh vi dico cosa non significa camminare con gli empi non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schermitori ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte quindi cosa significa camminare con Dio possono due persone andare nella stessa destinazione possono camminare insieme se non vanno nella stessa destinazione Dio rispetta la sua stessa legge quindi se state camminando con Gesù e lui dice ho mantenuto tutti i comandamenti di mio padre significa che anche voi state seguendo il Signore Amos 3 3 possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo quindi la persona che tiene presente la cosa più importante sta camminando con Dio dice al Signore cosa vuoi ciò che desideri e ciò che farò ho riassunto questa cosa in 5-6 punti per camminare con Dio prima di tutto dovete andare nella stessa direzione se non andate nella stessa direzione potreste camminare con Lui ma più lentamente e se poi virate anche solo di 45 gradi piano piano andrete per un'altra strada ma se andate verso lo stesso punto verso l'orizzonte camminerete insieme giusto? dovete andare nello stesso posto nella stessa direzione dovete andare anche allo stesso passo quando camminate con Dio Lui ha la sua velocità che è quella che vi guiderà se andate avanti non siete più insieme se restate indietro non siete insieme potreste anche andare nella stessa direzione ma non essere comunque insieme perché uno è un chilometro davanti all'altro non possiamo dire che state camminando ancora insieme è giusto? quindi non avete solo bisogno di andare nella stessa direzione dovete andare allo stesso passo dovete andare nella stessa destinazione dovete avere lo stesso scopo perché state andando? avete mai pensato che ci sono molte persone che vogliono andare in paradiso ma che per questo camminano con Dio con motivi diversi rispetto a quelli di Gesù non dovrebbero avere lo stesso motivo per camminare con Dio che Dio ha per camminare con noi avete mai visto persone che si sposano e hanno diversi o recogniti motivi per il matrimonio se il loro matrimonio è amo questa persona e voglio farla felice ed entrambi hanno quello stesso scopo avranno un matrimonio felice se hanno motivi ulteriori se il loro scopo non è lo stesso avranno dei problemi se il vostro cammino con Dio lo state facendo per il guadagno che ne avrete quello non è lo stesso motivo di Dio il motivo deve essere l'amore per gli altri l'amore che va esternato quindi dovete farlo con lo stesso scopo e infine dovete farlo con lo stesso potere con la forza dello spirito di Dio che di certo sarà l'energia del Signore deve essere lo stesso potere che vi guida stessa direzione stesso passo stessa destinazione stesso scopo e stessa forza questi sono i termini se state camminando con qualcuno dunque non ci dice soltanto di camminare con Dio ci dice anche come camminare con Dio camminate umilmente con il vostro Dio sapete cosa significa in ebrei per umilmente e in Michea 6 versetto 8 si intende umiliare se stessi per camminare con Dio in altre parole camminare umilmente con Dio significa che voi camminate con umiliazione pentendovi dei vostri peccati non state camminando con Dio perché pensate di meritarlo state camminando perché siete umili è questo che ci rende meritevoli di camminare con Dio forse pensiamo di essere meglio degli altri perché camminiamo con Dio camminiamo con Lui perché siamo giudicati meritevoli per la virtù di Cristo non meritevoli per noi stessi salmi 25 9 egli guiderà i mansueti nella giustizia e insegnerà la sua via agli umili gli umili impareranno ho sentito di un villaggio in Africa in cui hanno dato una medaglia ad un uomo perché era considerato l'uomo più umile del villaggio ma poi lui fece l'errore di portare la medaglia e loro se la ripresero la cosa interessante dell'umiltà cristiana è che se pensi di averla guadagnata probabilmente l'hai persa in quel momento stesso signore finalmente sono umile se dite questo siate fieri della vostra umiltà e l'avete persa prima Pietro 5 5 Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili beh io non so voi ma io ho bisogno di grazia avete bisogno di grazia chi ottiene la grazia gli umili potete cadere nel vostro cammino con Dio sì ma se camminate umilmente potete rialzarvi e ottenere la grazia camminate con Dio con arroganza cadrete molto spesso non state neanche in piedi ma se volete essere in grado di continuare a camminare con Dio dovrete farlo con umiltà particolarmente bella è la parte che dice alla fine di Salmi 51 17 i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto o Dio tu non disprezzi il cuore rotto e contrito se state camminando con Dio umilmente significa che state camminando perché avete il cuore spezzato si è rotto ai piedi della croce e siete così grati di avere il privilegio di camminare con Dio che lo fate con umiltà ora passando all'ultimo verso l'ultima parte del verso agisci giustamente ama la misericordia cammina umilmente con il tuo Dio sapete è molto bello quando ci pensate il punto è con Dio possiamo essere con Dio qual è lo scopo del piano della salvezza noi siamo separati da Dio per i nostri peccati lui vuole stare con noi non è bellissimo se ci pensate Apocalisse 21 3 e udì una gran voce dal cielo che diceva ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio wow qual è lo scopo finale quando saremo in paradiso saremo gli uni con gli altri quindi se volete essere con Lui dopo dovete voler camminare con Lui qui ora camminate umilmente con il nostro Dio avete due scelte potete vivere una vita con Dio o senza di Lui io ho già provato a vivere senza di Lui non si va da nessuna parte si va verso il basso quindi io voglio vivere con Lui questo significa camminare con Lui cammina umilmente con il tuo Dio quindi in sostanza notate cosa c'è in questi versi i tre punti principali sono ditelo con me agisci giustamente ama la misericordia cammina umilmente agire è ciò che fate l'amore è ciò che fate agli altri il cammino è con Dio il grande comandamento ama il Signore Dio tuo e ama il tuo prossimo come te stesso l'avete sentito dire altre volte la chiave per avere gioia è Gesù gli altri e voi questi tre elementi sono la chiave della visione cristiana e sono voi agite giustamente amate gli altri con misericordia e poi concentratevi su Dio camminate con Dio vivete per la sua gloria adoratelo voi il vostro prossimo è Dio è tutto riassunto qui sapete cos'è che amo di questo verso dice perché Dio non conta ciò che avete ma chi siete non vuole i vostri beni ma il vostro spirito non sta cercando la vostra casa ma vuole il vostro cuore questo meraviglioso verso ingloba ciò che il Signore vuole da noi vuole te vuole il vostro cuore e se avrà il vostro cuore voi direte Signore con la tua grazia cercherò il tuo regno agirò giustamente amerò il mio prossimo mostrerò misericordia e gentilezza e non vivrò una vita separata da te camminerò con te come Enoch Enoch deve aver fatto un cammino speciale perché non è nemmeno morto Enoch è adesso dove voi vorreste essere Amen quindi se voi camminate con Dio come Enoch camminava con Dio allora siete a casa grazie a tutti Grazie a tutti.